Per la sicurezza in via Panella, ora il Comune corre ai ripari e annuncia controlli che saranno intensificati con la presenza di autovelox per controllare la velocità delle automobili o l'utilizzo di alcuni deterrenti per ridurre la velocità. Dopo l'ultimo investimento in via Panella, l'amministrazione accelera dunque sulle soluzioni da adottare. Potrebbero essere i dissuasori, su Viale Corrado IV comunque non hanno funzionato un granché, oppure l'installazione di telecamere, ma per ora si tratta soltanto di idee. Di certo l'amministrazione vuole rispondere alle esigenze di sicurezza, soprattutto dopo l'allarme lanciato da Domenico Impelluso, il papà della ragazza investita. Il problema dell'area che va dal cimitero alla Questura è reale. Innanzitutto l'assessore Mannetti ha annunciato che anche via Panella sarà una zona 30 come via della Polveriera. Le zone 30 sono quelle pensate per ridurre la velocità delle strade particolarmente trafficate e pericolose, come ad esempio Viale della Croce Rossa o Viale Corrado IV. Mettendo a 30 km orari il limite di velocità. Intanto l'assessore Mannetti ha convocato un vertice in comune con la Polizia Municipale il prossimo 9 novembre. La convocazione era precedente, ma poi l'ultimo investimento della studentessa aquilana ha accelerato il tutto. I vigili urbani non sono sufficienti a coprire le esigenze di una città profondamente cambiata, ma tuttavia alcune questioni si devono prendere necessariamente di petto. Molte sono pure le proposte dei cittadini. Il dibattito si è scatenato infatti anche sui social. Chiedono il riuso del semaforo come funzionava una volta, la realizzazione di una rotatoria per uscire da via Pescara, anche se questa ipotesi sembra poco percorribile, oppure una segnaletica migliore e aree più sicure per far scendere i ragazzi dai bus che poi vanno a colle sapone. L'assessore Carla Mannetti intanto nei giorni scorsi ha fatto anche un sopralluogo con i vigili in via della polveriera. Molti genitori, anche il dirigente scolastico, avevano avanzato il problema della sicurezza della scuola. In alcuni giorni infatti arrivano ad uscire da scuola persino 500 studenti. Immaginate il caos con le macchine. I vigili sono sempre presenti, ma non si può pensare che una pattuglia possa risolvere il problema, per cui l'assessore Mannetti ha detto che anche su quest'area ci sarà un intervento più strutturato.